Salve YouTube, benvenuti con questa nuova puntata di MotoGP 2015 Oggi il Moto Mondiale ci porta a Le Mans, Francia Vediamo un po' di fare qualcosa di meglio rispetto a Spagna Visto che poi è la prossima, giochiamo pure in casa, non possiamo perderla Io faccio 2-3 G di prova e poi ci vediamo in qualifica Signori siamo in qualifica, in prova abbiamo fatto un tempone, gli abbiamo dato un secondo e mezzo Fai devi controllare una cosa qua, ingegnere amico mio Cominciamo a lavorare noi sulla moto, sono qua Ok ti sei mantenuto quello che ti ho detto, bravo ingegnere Scendiamo subito in pista e cominciamo a fargli capire sti faccomanda Non è capabile, non l'armi di più, abbiamo fatto un giro di riscaldamento Non è capabile, non l'armi di più, abbiamo fatto un giro di riscaldamento Ok, adesso cominciamo a giocare sti faccaldamento Adesso cominciamo a giocare sti faccaldamento Adesso cominciamo a giocare sti faccaldamento Sto facendo un errore di riscaldamento Sto facendo un errore isolato ragazzi, non mi credi più Sto facendo molto meglio in tutti i controlli E poi comunque faccio un giretto a due atto solo La polla loro sta intorno all'1.47 qualcosa Non so se vediamo quanto arriva Che là là Vabbè sto gira come ne deve buttare E che cavolo ma ho dovuto in bizzerria qui No no, prima c'era molto meglio Devo rilassarmi un attimo per riconcentrarmi E questa gara se non ci ha lasciato farà come faccio un altro giro con buono un po' di due prima 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 buongiorno buongiorno e benvenuti a Le Mans per il quinto appuntamento del moto mondiale i preparativi per la gara della moto 3 sono terminati e i piloti scenderanno a breve sulla griglia di partenza per dare inizio alla gara ok signori eccoci qua siamo primi sia in prova che in qualifica che nel warm up se questa non la vinco mi girano le cittadine un po' di due prima via 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 In cortenza c'è un po' più rovinca Ma muori E muoricci pure male E' un po' più lento E' un po' più lento E' facile E' un po' più 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 facile Io ho dovuto sporcare la malamia per tenerlo dietro Non si fa quel po' più facile E' un po' più facile Corre come succede, non si va a fare bene, non ho idea, che è bene, che è bene, che è bene, che è tutto. L'ho ucciso, ma sono morto anche io. Adesso, non c'è più che siamo più da giro, non c'è più il cammino, facciamo tutto il cammino faccio. E ecco il secondo rewind. Stavo a usarne una giro, ma qua. Vabbè bene, non c'è neanche la finalità, è la virus, e consentiamoci. Vabbè bene, non c'è più. 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 Se non c'è più. Non c'è più. Vabbè se ho sentito già fatto la posizione. Non è che non ho troppi niente Tutte, tutte le traiettorie Eccola qua Prima o poi dovrei adarmela Gioco del cazzo C'è una mezzo che sono rotto Andiamo a guardi qui Dove cazzo Vuoi farci vedere questo gioco? C'è un certo punto Se vuoi darci la finalità ce la dia Amen Quindi Mentre i protagonisti della gara raggiungono il parco chiuso Noi diamo uno Andiamo un po' Antonelli Analizza la gara con l'ucività Sui pagini sono Un po' dispiaciuto per aver perso il confronto con Piddu Ma devo ammettere che oggi guidate un po' forte per me C'è Antone Che ti devo dire? Io speravo qualcosa di meglio Speravo Tu non cacci il Il contratto ma manco per le palle proprio Che dire ragazzi Puntamento di oggi può finire qui Sono deluso ovviamente Perché non puoi arrivare primo in tutte le cazzo di sessioni E poi vedere che l'ulinga cambia completamente Il modo di giocare No Allora Fammi andare dietro Fin dall'inizio Vaffanculo Almeno uno è preparato Vabbè Direi che appunto oggi può finire qui Devo seguire tutto Bye bye